Nome. Maurizio Giuliano. Soprannome. Il lupo dell'agro romano. Numero vittime. 8. Modus operendi. Stupro, accoltellamento, arma da fuoco, strangolamento. Maurizio Giuliano nasce a Roma il 7 giugno 1962. I genitori si sposano solo quando Maurizio ha 15 anni e i rapporti col padre sono decisamente formali e anaffettivi. Per far nascere Maurizio è stato necessario l'uso del forcipe e i genitori pensano che quell'esperienza abbia potuto causare dei danni cerebrali. Anche per l'allattamento ci sono stati dei problemi. La madre era priva di latte e il bambino era stato affidato a una balia. La madre afferma di non ricordare problemi particolari nell'infanzia di Maurizio, ma dice anche che suo figlio non ha pronunciato parola fino ai 3 anni ed era molto introverso. Da bambino, provava un rancore immotivato verso la madre e la chiamava puttana e, un giorno, le propose di uccidere il padre. A scuola, iniziò a comportarsi in modo strano e decisamente violento. Un giorno, strappò un occhio con una forchetta a un compagno e, in un'altra occasione, costrinse un bambino a bere della varechina. Le cose peggiorano quando Maurizio viene investito da un auto. Riporta un trauma cranico e una commozione cerebrale con ricovero ospedaliero per 8 giorni. Da quel momento, diventa insicuro, reattivo, aggressivo, irrequieto e soprattutto protagonista di episodi di distruttività verso cose e animali. In questo periodo, iniziano le prime visite specialistiche di Maurizio, a causa di numerosi episodi che testimoniano la sua anormalità psichica. A 7 anni, subisce il primo ricovero in un istituto assistenziale e a questo ne seguiranno molti altri. Maurizio viene sempre allontanato dagli istituti a causa del comportamento gravemente scorretto, aggressivo e pericoloso. Cerca sempre di fuggire. A 10 anni, compaiono episodi di piromania e di sadismo orientato sugli animali. Sgozzava pecore e galline, dopo averle torturate a lungo. Maurizio tentò anche di uccidere il fratello Roberto, di 3 anni più giovane, e bruciò il viso di un altro fratello. Maurizio torna a casa all'età di 12 anni e lavora per un po' come vaccaro e pastore, alle dipendenze del padre. Un giorno, incendia il fienile, uccide il bestiame e inietta in una vacca e nei conigli una sostanza sconosciuta. Quando si rende responsabile di atti vandalici, il padre lo punisce legandolo al letto con una catena, la madre lo ustiona con un ferro rovente e i fratelli gli sputano addosso. Il padre minaccia di rompergli le gambe se non lo aiuterà nel lavoro e lui, come unica risposta, appicca il fuoco alle stalle. A 15 anni, dopo essere stato dimesso dall'ospedale psichiatrico, subisce la prima carcerazione per un'imputazione di tentata rapina, tentato sequestro e violazione di domicilio. Una volta scarcerato, torna a vivere con la famiglia, ma i conflitti e i comportamenti strani non accennano a diminuire. Poco dopo, si allontana definitivamente di casa e inizia a vivere per proprio conto di espedienti e facendo il vagabondo. Si mantiene con i furti e le truffe. Nel 1979, picchia selvaggiamente una signora che lo aveva aiutato. Viene arrestato e tenta il suicidio in carcere. Nel 1984, viene arrestato per aver incendiato la casa della ex fidanzata. Aveva l'abitudine di girare in Vespa, con una pistola e un coltello a serramani con al vano porta oggetti e scippava le donne che camminavano da sole, a volte aggredendole con violenza. Fra il 1983 e il 1993, Maurizio Giuliano commette otto omicidi, usando armi diverse. Ben sette omicidi sono commessi nello spazio di pochi mesi, nel 1983, mentre l'ottava vittima è un altro recluso del manicomio che viene ucciso nel 1993. Le vittime sono tutte donne, di cui tre prostitute, tranne un uomo. 15 luglio 1983. Teastoppa, 50 anni, prostituta. È stata ritrovata cadavere in un cantiere. È stata violentata, strangolata con una delle sue calze e finita con un colpo di pistola alla testa. Il suo volto, in uno strano e avverrante rituale di umiliazione, è coperto di terriccio e sassi. Una settimana dopo, viene ritrovato il corpo esanime di un'altra prostituta, Luciana Lupi, 35 anni. Dopo averla strangolata, l'assassino ha coperto il suo volto con del terriccio. Appena due giorni, è un nuovo cadavere spunta a Castel Porziano. Lucia Rosa, 34 anni. Strangolata col suo reggiseno. 5 agosto 1983. Giuliana Meschi, 32 anni, impiegata comunale, viene uccisa e abbandonata in un campo di Gran Turco. L'assassino le ha prima saltato addosso, calpestandola ferocemente. Poi l'ha sgozzata. Questa volta, però, qualcuno ha visto. Un contadino, che dice di aver visto un tale fuggire a piedi dal luogo del delitto. Il 31 ottobre 1983, in una strada poderale a pochi chilometri da Pomezia, viene rivenuto il corpo di Fernanda Durante, 53 anni, pitrice dilettante. Fu stuprata e uccisa da 34 coltellate. 21 gennaio 1984. Caterine Scherl, 17 anni, italo-svedese, di ritorno a casa da una festa, viene violentata e strangolata. Il suo corpo sarà ritrovato in una vigna di grotta ferrata. Qualcuno vede la ragazza salire su uno scooter guidato da un giovane alto e massiccio. La polizia non ci mette molto ad arrivare a lui, Maurizio Giuliano. Arrestato fu diagnosticato come estremamente pericoloso ma seminfermo mentale. Fu così mandato in un ospedale psichiatrico. È il 1993. Il mostro chiede una sigaretta al compagno di Cella ma costui, per qualche motivo, gliela nega. In preda all'ira, il serial killer gli saltò addosso con un cuscino e lo soffocò fino ad ucciderlo. Il lupo dell'agro romano muore poco tempo dopo, nel 1994, per un infarto.